Come ti cambia come uomo fare un'esperienza del genere? Nel senso, quando tu vedi tutto così da lassù, non so, io mi immagino, ti accorgi di come siamo piccoli, ti accorgi di come siamo minuscoli nell'universo, ti accorgi di tu come sei un miracolo, di come essere umano. Questa è una cosa importante, devo dire, sì andiamo nello spazio per fare ricerca, ma ci sono un paio di cose che sono veramente importanti fuori da quello che sono le ragioni di base per andare nello spazio ed è questa esperienza umana. Devo dire che quando vai nello spazio hai la possibilità di guardare la terra da un punto diverso, perché noi qui sulla terra siamo col naso spiaccicato per terra e vediamo quello che ci sta attorno, è come se uno andasse a vedere un quadro e lo potesse guardare solo mettendo al naso e dice guarda vedo un dentino, un pelino, vuoi vedere qua, devi tirarti indietro e vederlo così, allora vedi, che ne so, gli oceani, i fiumi, vedi, passi sopra l'Europa, in un minuto sei passato soprattutto e noi qui stiamo litigando tra l'Italia, la Svizzera, la Francia, la Germania e lì sopra siamo tutti assieme. Non si vedono confini dallo spazio, questo è importante, dallo spazio a me è sembrato di vedere una nave in viaggio nell'universo, non ci sono i confini, non è che quelli che sono a prua, questa è la prua, quelli di poppa, chi se ne frega, siamo tutti assieme su questa nave e dobbiamo lavorarci, da sopra vedi questa cosa, se c'è un confine importante che vedi è l'atmosfera, cioè vedi di sera quando il sole cale si vede questa piccola linea blu che sembra la nebbiolina in Valpadana, che se la stazione fa, se ne va via, e lì pensi se non ci fosse quel confine noi non saremmo qui, forse dovremmo fare attenzione a quel confine, perché ci divide dal vuoto dell'universo. Ma ci sono, per cui è paradossale come tu arrivi in orbita da terrestre, diventi extraterrestre perché sei fuori dalla terra, ed è la prima volta che guardi la terra e dici, quella è casa mia, guarda com'è bella, guarda com'è unica, ma guarda anche com'è delicata, all'inizio ti vieni a pensare, com'è delicata, i fiumi, le città, le cose, e poi pensi, sì ma la terra non è poi così delicata, è un pezzo di terra, siamo noi sulla terra che siamo delicati, perché se cambio le condizioni la terra rimane, siamo noi che spariamo, quindi dobbiamo stare un attimo attenti. Wow.